Ciao, sono Alma Hilai, sono nata il 2 febbraio 2000, il mio ruolo centrocampista, il mio numero di maglia il 15. Ho scelto questo numero perché era l'unico numero rimasto. Ho scelto di giocare come centrocampista perché penso che è un ruolo che ti permette di avere un'ampia visione di gioco. Ho iniziato a giocare a calcio fin da piccola, giocavo sempre con i miei amici dopo scuola e ho iniziato perché è la mia passione. Nella vita, oltre a giocare a calcio, studio, frequento la seconda superiore. Penso che il calcio femminile deve essere considerato come uno sport professionistico per aiutare le atlete a seguire il loro sogno. Del calcio femminile mi piace la grinta e la passione che mettono le ragazze in campo. La cosa che non mi piace del calcio femminile è che non viene considerato come il calcio maschile. Il mio ricordo più bello è quando ho fatto il primo gol a 12 anni. Il ricordo più bello che ho con la CF Florenzia è quando ho vinto il campionato con il calcio a 5. Ho iniziato a giocare con CF Florenzia perché penso che sia una società seria e professionale. Il mio hashtag è BeTheOne perché nel calcio e in tutti gli sport vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta e per essere i migliori bisogna battere i migliori. Il mio sogno per il CF Florenzia è di andare in alto e di spaccare tutto.